Stiamo parlando di questi. In sei mesi il problema se vuoi lo risolvi. Se vuoi, volere è potere. È chiaro che se uno mi dice a Torino, passando al PD e 5 Stelle non è cambiato nulla, perfetto. Dove ci sono i sindaci della Lega e noi governiamo in un migliaio di comuni, non ci sono vergogne come questa. Non hai la bianchetta magica, non lo risolvi in sei giorni, lo accompagni in alcuni mesi, ma stiamo parlando di 40.000 persone che vivono nei campi e il campo non esiste in nessun paese europeo. Cioè l'istituzione Campo Rom o Baraccopoli non esiste neanche in Romania.